Ma non il perdono di che? Il perdono che la società si dovrebbe interrogare, ma verso quali ideali andiamo? È possibile che l'uomo di oggi è così spaesato, così tolto di quei valori in cui c'è un bene e un male da non riuscire a definire con un confine preciso su quello che si può fare e su quello che non si deve fare. Non uccidere, dice il Signore, non uccidere. E quindi la vita va amata, va rispettata in qualunque maniera. E poi il dialogo, recuperare il dialogo, cioè la possibilità di ascolto, ascoltare chi ha esigenze interne. Ma lei si aspettava questa sera tutta questa gente qui per la fiancolata? Ci speravo, perché penso che sia un segno di coscienza civica, collettiva, dinanzi a un fatto che nella sua realtà e quello che abbiamo potuto vedere ci ha letteralmente costernati. Qualcosa di orripilante. pensare di poter uccidere una persona inerme, diceva Vile, uccido un uomo morto, un uomo disteso. Uccidere così, uccidere senza dargli la possibilità di una replica, di una possibilità. Ecco, è il senso dell'idiozia più assurda, del niente. Ecco, dietro gli occhi niente. E chi fa cose di questo genere non ha niente nella mente, se non il vuoto che rimbomba in maniera paurosa, angosciante e che in qualche modo rappresenta i tanti vuoti del mondo, di gente che non è ascoltata nei loro diritti fondamentali, diritto al mangiare, diritto a vivere, diritto ad avere pace, ad avere giustizia, ad avere libertà. Grazie. ...di chi ha donato tutto e continua a donare tutto, ma la vita non può essere tolta, non può essere strappata, soprattutto se appargo in un malorto, è uno che è dietro nella nostra condizione. Siamo qui per dire Dio, Signore, a dire Dio, Signore, per Dio, che in questo modo si è dovuto concedare a lui, benedici la sua famiglia, le sue figlie, benedici la sua sposa, i suoi parenti, benedici tutti quanti. Quello, in un momento di tenere, un popolo che è rimesso per le tenere, dice il profeta Isaia, vive una grande luce. Noi siamo quel popolo, ma oggi una luce grande, una parola di speranza. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti